Conviene iniziare a collezionare Pokémon nel 2024? Quale deve essere l'approccio per chi vuole dare il via alla propria avventura in questo mondo? E quale prodotto o raccolta potranno aiutarvi in tal senso garantendovi una buona base di partenza? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Pokémon è sempre stato per me il primo TCG al quale ho giocato e ricordo che da bambino alle elementari di Charizard prima edizione tra le mani me ne sono girati parecchi inconsapevole che in realtà da lì a qualche ventennio avrei potuto se li avessi trattati con cura comprarmi una macchina nuova o addirittura dare l'anticipo per una casa. Ma con il senno di poi tutti sono maghi della finanza e nessuno a quell'età si sarebbe mai aspettato un tale mercato che ha mosso miliardi di dollari basandosi semplicemente su delle figurine. Crescendo poi ho iniziato ad avvicinarmi ad altri TCG come ad esempio Yugi e Magic che come per Pokémon ho approcciato lato giocatore e quindi ho allentato la presa sull'acquisto delle singole bustine dirottando le finanze sui GCC di Richard Garfield e il maestro Takahashi allontanando lo sguardo dal competitivo dei mostriciattoli tascabili che sì è sempre rimasto presente nella mia vita ma in quantità ridotta. Infine con l'arrivo di Pokémon GO e le vicende che hanno visto Logan Paul protagonista la Pokémania è tornata in auge riavvicinando grandi e piccoli al titolo nipponico che da quello storico momento ha visto un'ascesa inarrestabile. E quindi anche su YouTube hanno iniziato a girare i primissimi video dei content creator che sbustavano carte incredibili mostrando inoltre le proprie collezioni di pezzi rarissimi. Così guardando i diversi contenuti pubblicati sul tubo a un tratto ho pensato. Perfetto, lo faccio anch'io. Chiavi in mano dunque e via Bersolup Games dato che so per certo che il proprietario, Luis, è collezionista tutt'oggi di vecchia data e fiducioso di poter mettere le mani su una collezione da mostrare fiero a tutti gli appassionati ho iniziato a chiedergli di farmi vedere le carte Pokémon che aveva a disposizione in negozio e lui di tutta risposta ha chiesto. Ok da dove vuoi iniziare? Delle carte Pokémon? Vorrei vedere delle carte Pokémon per iniziare la mia raccolta personale. Quindi ha preso una parte infinitesimale della sua raccolta illustrandomi diversi elementi a sua disposizione partendo dagli album con carte sfuse passando per le gradate arrivando infine ai prodotti sealed. Al che gli ho chiesto se non avesse qualche set a disposizione pronto all'uso e a questa ennesima domanda Luis ha risposto. Guarda i Pokémon è uscito tantissimo negli ultimi trent'anni quindi dipende tu da dove vuoi iniziare. Molto interessante quindi non c'è un vero e proprio punto di partenza. Spetta al sottoscritto decidere da dove porre la prima pietra. E così con la coda tra le gambe per aver concluso con un nulla di fatto sono tornato a casa a mani vuote ma con un pensiero fisso. Dipende tu da dove vuoi iniziare? Non contento del mio insuccesso e conoscendo una persona che poteva darmi una mano a rispondere alle diverse domande che mi sono sorte ho contattato un content creator che è stato già ospite qui sul canale e ponendogli i quesiti che mi perplimevano si è prestato molto volentieri per convividere con ogni appassionato la sua personale esperienza fornendo così una linea guida da seguire che sono certo tornerà utile a tutti coloro che vorranno iniziare in questo 2024 la loro avventura che li porterà ad acchiapparli tutti. Signori dalle statistiche di youtube ho notato che in media il 77 per cento di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo perciò datemi una mano se ancora non siete iscritti basta un click per voi è un semplice gesto ma per me è di grande aiuto grazie per il supporto torniamo al video ed ora scopriamo assieme se converrà iniziare a collezionare carte pokemon partendo dall'anno corrente dando il benvenuto a luca del canale make a wish è un vero piacere averti quest'oggi ancora ospite sul canale e vorrei già da subito porti una domanda a bruciapelo che poi è la tematica dell'intero video è possibile iniziare a collezionare carte pokemon nel 2024? Iniziare a collezionare pokemon nel 2024 è sicuramente una una sfida è sicuramente una sfida perché è davvero molto difficile e comunque è un hobby che costa è un hobby che costa perché i pacchetti costano tanto le carte più importanti costano assolutamente tanto però è anche è anche molto molto bello molto molto vario quindi diciamo che io sono convintissimo che sia possibile iniziare a collezionare pokemon nel 2024 anche non avendo per forza tutti questi soldi l'importante è capire cosa cosa ci piace praticamente perché conosco persone che collezionano solo carte di un singolo pokemon e quindi magari appunto non vanno a spendere così tanto oppure ci sono persone che collezionano solo carte di uno stesso autore anche questo non per forza devono costare tanto queste carte quindi direi che se ci si stacca dall'idea di collezionare tutto un set dalla prima carta fino all'ultima fuoriserie assolutamente è fattibilissimo iniziare anche con poco a collezionare nel 2024 qual è la collezione che consigli di intraprendere se si vuole iniziare l'avventura nel mondo del gioco di carte collezionabili pokemon anche questo è molto una domanda molto complessa però si lega molto bene con quello che ho detto prima diciamo che la collezione che consiglio di iniziare è quella che dà più felicità a un a te nuova persona che vuole approcciarsi come a questo mondo collezionistico direi che quello che dico io solitamente per far auto scegliere qual è la collezione che piace è di fare un salto su pokelector.com dove ci sono tutte le liste degli ultimi set anzi praticamente tutti i set con tutte le carte proprio tutte le immagini delle carte ne apri 1 2 3 ti guardi tutti gli ultimi set che sono usciti e decidi tu stesso cos'è che ti piace poi appunto la cosa importante sarebbe prima prendersi un po di dimestichezza aprire 2 3 10 20 pacchetti tranquilli per capire cosa ci piace effettivamente e poi appunto andare andare verso o il completismo di un set molto molto specifico oppure il oppure con qualche attività come ho detto prima quindi collezionare solo carte di un singolo pokemon collezionare solo carte di un singolo elemento magari anche diciamo che appunto si può fare tutto l'importante è che questa collezione non non diventi un peso per te come persona e un peso anche appunto sulle sulle tue tasche se vogliamo andare proprio sullo specifico e magari sei una di quelle persone un po più vecchie come me quindi un po nostalgica beh a fine 2023 è uscito scarlato e violetto 151 che è un set che comprende praticamente tutti i pokemon della prima generazione ci sono un sacco di carte spaziali effettivamente un po costoso però è un divertimento assurdo farsi quel set ci sono delle dinamiche da tenere a mente prima di iniziare a buttarsi nell'intento di acchiapparli tutti delle dinamiche particolari ce ne sono sicuramente ci sono tantissime dinamiche particolari in questo mondo però magari quello che direi assolutamente sempre pensando appunto una persona che si approccia per la prima volta a collezionare è che magari bisogna avere semplicemente molta molta calma specie è considerato se ci stiamo approcciando a un nuovo set a una nuova espansione appena uscita ovviamente non bisogna correre per comprare tutte le carte più costose perché diciamo che di base man mano che tutto il mondo inizia ad aprire questo set queste carte scendono di prezzo questo è uno dei degli errori più grandi che ho visto fare a collezionisti alle prime armi tra virgolette che appunto vogliono comprare tutto subito quando in realtà basterebbe aspettare un mese e il il set completo costerebbe forse anche meno della metà di quello che una persona spenderebbe nella prima settimana tra i mille prodotti disponibili sul mercato quale può rappresentare un valido punto di partenza per chi vuole collezionare questo tcg anche qua la difficoltà di capire qual è il prodotto migliore per iniziare a completare magari un set o iniziare appunto un qualsiasi progetto è dura è dura dipende ovviamente da quant'è il tuo budget perché quello che consiglio sempre è avendo a disposizione un po' di un po' di soldini è di spendere quei 160 170 180 euro per un display da 36 bustine dove bene o male nelle nuove espansioni ti dà quasi la garanzia di trovare dalle 8 alle 12 13 carte carte importanti ecco quindi sicuramente partirei da un display da un display da 36 bustine è anche vero che se non hai a disposizione tutti questi soldi perché appunto 160 180 euro sono tanti magari ci sono i set allenatore fuori classe che ti danno comunque qualcosa di molto di molto interessante perché hanno sempre una carta promozionale o perlomeno da scarlatto e violetto ogni set allenatore fuori classe contiene contiene nove bustine e una carta promozionale davvero bellissima che appunto ricollegandomi a quello che dicevo prima secondo me anche solo collezionare tutte queste carte promozionali di tutti questi set allenatore fuori classe potrebbe essere una collezione interessante ultima domanda ma non per importanza qual è il prezioso consiglio che dai a tutti coloro che vogliono iniziare il viaggio come allenatori di pokemon di consigli ce ne sarebbero tanti da dare sicuramente quello che secondo me è la cosa più importante sempre appunto dal punto di vista di una persona che sta iniziando è che non è assolutamente una competizione noi viviamo un po in quello che io definisco l'epoca dello show off ovviamente tutti sono sui social e può sembrare una competizione ci sono molte persone che si sentono addirittura di reputarsi migliori di qualcun altro perché hanno le carte più costose o hanno le carte più belle ovviamente non tutti però appunto può sembrare può sembrare così a un primo approccio a questa community la verità è che appunto non è una gara non è una gara ognuno si crea proprio la sua strada nel collezionismo ed è proprio bello per questo grazie infinite luca ancora una volta per aver condiviso con noi la tua esperienza al riguardo e per aver fornito dei validissimi punti di partenza a tutti coloro che vorranno iniziare a collezionare carte pokemon nel 2024 quindi di prodotti a disposizione del consumatore dal 96 da quando i primi mostriciattoli tascabili hanno fatto la loro comparsa nella terra del sollevante ad oggi ce ne sono stati un'infinità ma focalizzandosi su alcuni set nello specifico come ad esempio quelli di trick or trade a tema halloween o prendendo in considerazione un singolo artista tipo asako ito con le sue creazioni amigurumi o ryoma auratsuka con i suoi splendidi disegni a pastello o ancora mina nakai per fare dei nomi su tutti tra quelli che preferisco vi daranno la possibilità come già accennato da luca di ottenere intere collezioni a poco prezzo rappresentando allo stesso tempo una validissima base di partenza per la vostra avventura nel mondo pokemon dunque coraggio allenatori zaino in spalla e pronti con le vostre pokeball il viaggio verso le diverse raccolte presenti nel tcg dove pikachu e compagni vi attendono sta per avere inizio e voi comincerete l'avventura come collezionisti come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video